Proprietà degli archi e delle corde. Presa una circonferenza, disegniamo due archi congruenti, AB e CD. Tracciamo due corde che sottengono i rispettivi archi, AB e CD. Le corde sono congruenti, quindi la prima proprietà ci dice che in una stessa circonferenza ad archi congruenti corrispondono corde congruenti e a corde congruenti corrispondono archi congruenti. Tracciamo una corda AB in una circonferenza di centro O. Congiungendo gli estremi della corda con il centro, otteniamo un triangolo isoscele AOB in cui AO è uguale a OB, che sono i raggi della stessa circonferenza, quindi sono congruenti. Proprietà dei triangoli. In ogni triangolo un lato è inferiore alla somma degli altri due, quindi AB è inferiore a AO più OB. Essendo AO più OB il diametro, AB possiamo vedere che è inferiore alla somma AO più OB e cioè, seconda proprietà, in ogni circonferenza la corda è inferiore al diametro. Tracciamo una corda B, tracciamola perpendicolare alla corda passante per il centro della circonferenza. Possiamo vedere che AO è uguale a OB e abbiamo un triangolo isoscele AOB. OH è l'altezza relativa alla base, AB. OH è anche mediana di AB. OH è asse di AB e H è il punto medio di AB. Terza proprietà, AH è uguale a HB. OH è la distanza della corda dal centro della circonferenza. La perpendicolare è una corda che passa per il centro di una circonferenza, divide la corda a metà e rappresenta il suo asse. Tracciamo due corde congruenti, AB e A'B'. Si congiungano gli estremi AB e A'B' con il centro. I triangoli AOB e A'A' sono congruenti. Ripeto, i triangoli AB e A'B' O' sono congruenti. Hanno tutti e tre i lati congruenti. Ne consegue che le altezze sono congruenti. OH è uguale a O'H'. Quarta proprietà, in una stessa circonferenza, se due corde sono congruenti, hanno una distanza dal centro uguale.